buongiorno popolo rossonero buongiorno popolo del bandito dai che forse iniziamo a sporcarci un po le mani adesso mi spiego e arrivo al punto prima però vi chiedo un like al video se anche voi state aspettando con pazienza con fiducia che finalmente il mercato del milan prenda prenda corpo e insomma ci regali qualche qualche novità interessante la campanella per le notifiche ovviamente per ricevere i video e iscrivetevi stiamo viaggiando spediti verso i 15.000 quindi datemi una mano e salite a bordo più siamo più contiamo allora è un discorso un po sulle ipotesi quello di stamattina che però secondo me è importante perché innanzitutto mi riferisco all'ultima diciamo notizia sulla trattativa estenuante infinita come le nostre solite trattative e zirze pare che ci sia stata questa proposta del dell'agente kia per sbloccare la situazione allora al di là di quello che è la proposta adesso andremo a valutarla insieme e andremo a a parlarne perché farà discutere al di là di quello io incomincio a prendere il lato positivo della di questo fatto di questa vicenda il lato positivo qual è si stanno parlando stanno cercando di giungere a un accordo cioè diciamo non non c'è stato il la chiusura da una parte non c'è stata la chiusura dall'altra si sta cercando in qualche modo di di discutere e questo è importante perché vedete io spesso sottolineo no i guai l'ho fatto anche nel video di stamattina di questo sistema no di questo sistema che non garantisce le regole e permette che si paghino commissioni astronomiche togliendo soldi a quello che è il circuito calcio e pensate per una volta sono d'accordo con marotta ma solo questa volta solo perché ha messo il cappello di octree e e quindi sono soldi che non restano diciamo dentro al calcio ma finiscono sappiamo bene dove no e ci sono di mezzo in questo però anche le famiglie bisogna iniziare a aggiungere questo tassello perché se prima era solo il procuratore ora la commissione la vuole anche la famiglia quando si tratta soprattutto di giovani giocatori che si affacciano al al mondo del calcio che magari non hanno cartellini altissimi perché sono all'inizio la famiglia pretende diciamo questo questo bonus questa commissione per avere tra le proprie file il giocatore dalle belle speranze questo lo stiamo vedendo sempre più spesso accadere ovviamente in un in un mondo del calcio in cui infantino gravina e ceferin fanno di tutto per mantenere lo stato attuale e rifiutano qualunque controllo anche da autorità governative non ci pensano nemmeno a mettersi contro i procuratori perché i procuratori probabilmente poi e non consentirebbero la loro la loro rielezione o il loro mantenimento della poltrona quindi queste regole di cui tutti parlano in realtà non si fanno mai e quindi le società sono in questo io avevo fatto la diciamo così la il meme no di questo mare pieno di squali con il milan e i suoi dirigenti che sono lì che guardano e non si buttano in questo mare pieno di squali che diciamo a un suo valore diciamo il milan si è posto no su questo su questo piedi piedistallo in cui e i conti contano il bilancio conta la diciamo il non fare debiti conta non intrallazzare conta è chiaro però che in un mare pieno di squali in cui non ci sono regole se c'è zirzè da andare a prendere e tu sei titubante perché perché ti mettono no queste e la commissione alla gente la commissione alla famiglia di qua e di là allora quello che ho sempre sostenuto io è che o si fa una battaglia una lotta per cambiare chi guida il calcio e le regole di conseguenza è quello che molto modestamente sto cercando di fare con il mio canale quindi seguitemi se siete d'accordo sostenetemi se siete d'accordo ma questa è una cosa che ha bisogno del supporto di tanti che ha bisogno di del supporto anche all'interno di quella che è la lega serie a altrimenti ti mettono lì da parte poi arrivano gli arbitraggi arriva il var arriva rocchi arrivano tutti dopo ci siamo capiti oppure diciamo cercando di mantenere dei paletti per quanto riguarda almeno il fatto di non sforare dei bilanci la sostenibilità vi dicendo però nel almeno nelle trattative trattative di mercato bisogna un po sporcarsi le mani perché se no ci fregano sempre se no ci fottono sempre ricordate la vicenda Taremi no è lì sotto gli occhi di tutti è evidente quello che è successo no direi che è molto chiaro chiaro è chiarissimo tanto chiaro che quelli che dicono che io non ci becco mai ci ho beccato addirittura il 31 agosto dell'anno scorso un'ora dopo il fatto quelli che dicono che non ci becco comunque il punto è che finalmente ci sporchiamo le mani anche noi cosa la trattativa cioè la proposta di chi ha qual è ok la famiglia vuole un riconoscimento il Milan non vuole dare questo riconoscimento cash vi prendete il fratello giovane il 19 anno allora noi tra l'altro su queste cose siamo esperti no perché noi ci siamo goduti cacà e ci siamo dovuti portare a casa il fratellino siete pentiti di questo no assolutamente no ci saremmo potuti godere Donnarumma sicuramente non per scelta nostra Donnarumma ha pensato di cambiare ma ricordate che per rinnovare il primo contratto di Donnarumma altrimenti già lì sarebbe andato a zero abbiamo dovuto mettere in panchina Antonio Donnarumma questo qui tra l'altro Jordan Zilze è un 19enne un attaccante del Bayer Leverkusen in scadenza di il contratto non sarebbe così inutile come il fratello di Donnarumma Antonio o il fratello di Kakà Jalot mi sembra si chiamasse così perché andrebbe a giocare nell'Under 23 e chi sa mai e chi sa mai chissà mai che possa nascere anche qualcosa di bello qualcosa di importante e comunque è un giocatore giovane 19enne attaccante che tu prendi e metti lì a giocare nell'Under 23 e vediamo cosa succede vediamo cosa succede intanto però ci portiamo a casa l'attaccante numero 9 che vogliamo Joshua Zilze ma il segnale è un altro secondo me che è più importante ancora non più importante di portarsi a casa Zilze che è il nostro vero obiettivo perché io stamattina leggendo alcuni nomi poi sembra che Di Marzio lo faccia apposta credo lo faccia apposta sì ma appena il Milan hanno difficoltà di mercato c'è qualche cosa che arriva col nome ridicolo tanto per fare incazzare i tifosi del Milan io credo che credo che sia proprio scientificamente messo lì apposta perché non posso crederci quindi va bene comunque oramai abbiamo capito penso tutti come come funziona quindi io sono assolutamente d'accordo ad accettare questa proposta e a chiudere la cosa e soprattutto perché dimostrerebbe che finalmente i dirigenti del Milan iniziano a sporcarsi le mani sul mercato fermo restando i conti in ordine fermo restando la sostenibilità fermo restando il bilancio inattivo ok va bene sono d'accordo ma sul mercato bisogna essere furbi scaltri come dice Ibra non essere bianco nero ma essere un po' grigio e cercare di sporcarsi un po' le mani perché le altri le mani le mettono proprio le affondano proprio bene 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 e allora è il caso che anche noi iniziamo sul calcio mercato a farci un po' furbi a sporcarci le mani e quindi anche a fare questa bella operazione furba genialoide di prendere il fratellino di Joshua Zirzeh Zirzeh benvengano Joshua Zirzeh e Jordan Zirzeh speriamo speriamo che il Corriere della Sera una volta tanto ci prenda abbia trovato la strada giusta e sono contento se fosse così sono contento sia perché arriva Joshua sia perché facciamo vedere che sul calcio mercato i furbi non sono solo gli altri ma anche noi sappiamo usare il cervello forza Milan